Ciao da AFSIM! Molti di noi tifosi della Juventus stavano aspettando l'esonero di Massimiliano Allegri e invece la Juventus ha esonerato, o comunque ci si è separati, con due allenatori della Juventus che non sono Allegri. Cioè invece di mandare via Allegri, hanno mandato via Zauli dall'Under 23 e Bonatti dall'Under 19. Parliamone, perché nell'assoluta indifferenza generale è successo questo ed è in corso una piccola rivoluzione a livello giovanile. Credo che sia un argomento molto importante per noi tifosi della Juventus perché da questo momento, da questa situazione, da come viene gestito questo avvicendamento passa il futuro della prima squadra. Perché se adesso in prima squadra abbiamo l'opportunità di parlare di giocatori giovani tendenzialmente bravi, con ottimo potenziale, da integrare appunto nella rosa dei senior è perché è stato fatto un certo lavoro nelle giovanili. E quindi affinché possiamo avere ancora, nei prossimi anni, altri giovani da aggregare alla prima squadra è necessario che si continui a fare un ottimo lavoro nelle giovanili. Fino a questo momento il lavoro è stato, ecco, magari non ottimo, però sicuramente molto buono. Direi sei e mezzo, sette, in alcuni casi anche otto, tra rendimento in campo e valorizzazione dei giocatori attraverso proprio questi due allenatori, Lamberto Zauli e Andrea Bonatti che hanno entrambi salutato la Juventus nel giro di poche ore. Il tutto, ripeto, in sordina, mentre noi eravamo distratti da Pogba, il calciomercato di Maria, Allegri che incontra Campos, il resto del calciomercato che riguarda anche le altre squadre italiane e straniere, l'Italia che prende un bel po' di schiaffi in faccia dalla Germania e invece appunto sta succedendo anche questo fronte giovanili della Juventus. E quindi, in particolare, Lamberto Zauli ha salutato la Juventus per andare ad allenare in Serie B il Suttirol. Quindi, congratulazioni a Zauli per questo upgrade in bocca al lupo e gli auguriamo il meglio che possa fare un'ottima stagione, ottime stagioni in Serie B con la neopromossa Suttirol. Zauli, che era arrivato alla Juventus a luglio 2019, prendendoli in carico per una stagione di allenatore proprio dell'Under-19. Allenatore dell'Under-19 che fu sfortunata, tra virgolette, cioè stagione sfortunata perché, come ricorderete, come sappiamo, poi quella stagione è stata interrotta, quindi non c'è stato neanche un finale di stagione. Con Zauli l'Under-19 finì quarta, ma il campionato non era terminato, quindi non ci sono stati neanche i play-off. E in quel contesto, quindi con l'Under-19, ha allenato Zauli per 32 partite con 17 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. Ed è stato salutato adesso, all'esito anche del percorso in Under-23 per due stagioni, con 87 panchine, 35 vittorie, 21 pareggi e 31 sconfitte, con queste parole chiave sul sito della Juventus. L'intenzione, l'obiettivo di far crescere i giovani, sia nell'Under-19 che nei due anni nell'Under-23, la cura del dettaglio, tante note positive in questo percorso, tra cui il fatto di aver fatto esordire in prima squadra alcuni giocatori. Perché se, appunto, possiamo vantare Miretti, in parte anche il ritorno adesso di Fagioli o di Ranocchia, ecco, dopo parliamo anche dei giovani che pian piano sono emersi sotto la guida Zauli e sotto la guida Bonati, è grazie appunto a questa guida tecnica. E in particolare a Zauli che ha avuto alcuni di questi giocatori proprio nell'Under-23 tra la prima e la sua seconda stagione, conclusa appunto quest'anno, sua seconda stagione 21-22. Ora, che cosa è successo? Che poi con l'Under-23 i risultati sono stati, come abbiamo visto, l'anno scorso la Juventus ha finito il campionato al decimo posto con poi l'accesso ai play-off, però con un percorso che è terminato già al secondo turno, mentre tra l'altro l'anno prima, quando nel 2019-20 Zauli è arrivato in Under-19, in Under-23 c'era Pecchia, e quindi tra l'altro in quel 2019, questo è un dettaglio importante, sembrava che la Juventus stesse avviando un percorso di unificazione delle guide tecniche. Cioè, va via Allegri, arrivano Sarri, Pecchia per l'Under-23 e Zauli per l'Under-19, cercando di fare gruppo, di avviare un progetto all'unisono. Poi succede che Pecchia vince la Coppa Italia Serie C con l'Under-23, termina il percorso dei play-off ai quarti, quindi non riesce ad andare in Serie B, e se ne va per andare anche lui, poi in Serie B è stato adesso allenatore della Cremonese di Fagioli, che grazie a Pecchia in particolare ha avuto accesso, ritorno clamoroso storico in Serie A. E poi appunto, dicevo, con Zauli decimo posto e secondo turno dei play-off, e quest'anno ottavi con, anche in questo caso, uscita ai quarti dei play-off, e quindi addio Serie B. Tra l'altro contro il Padova, che poi ha perso in finale contro il Palermo. E quindi siamo di fronte ad un Under-23 che dopo quattro stagioni, perché è stata allenata da Zironelli-Pecchia, è iniziata l'esperienza nel 2018, Zironelli-Pecchia-Zauli-Zauli, adesso vi parlo anche di quello che sarà probabilmente il nuovo allenatore dell'Under-23, dopo quattro stagioni l'Under-23 non è ancora riuscita a salire in Serie B. E questo, se non è un fallimento, poco ci manca, perché i giocatori, questi giovani, devono crescere, ma come fanno a crescere in Serie C? Cioè, davvero, non è possibile ancora sostenere che giocare in Serie C sia allenante per la Serie A e la Champions League. La Juventus, come prima squadra, è una società che punta ad essere ai vertici della Serie A e a giocarsela in Champions League? Sì, e quindi devi preparare i giocatori ad un livello più alto. Già la Serie B non è così allenante, ma almeno, almeno, e ti eviti anche di mandare questi giocatori in prestito che poi vengono sparpagliati, chi sotto una guida tecnica, chi sotto un'altra. Poi si sa, in Serie B magari l'allenatore può essere anche esonerato, come pure in Serie C succede, e quindi, invece di sballottarli, li tieni in Under-23 in Serie B, ma non siamo riusciti ad arrivarci neanche quest'anno, perché evidentemente non è stato fatto il lavoro al massimo, con un progetto chiaro, con un allenatore che resta, e lì riesci a valorizzarli sicuramente meglio. Si dovrà cercare di portare l'Under-23 in Serie B l'anno prossimo, ma davvero, o la laula spacca, cioè, a questo punto, il quinto anno, poi il sesto anno in Serie C sarebbe davvero un fallimento, perché è chiaro che l'Under-23 deve avere l'obiettivo, doveva avere l'obiettivo a breve termine, ed è stato già bucato, di andare in Serie B. Quindi Zauli, il suo buon lavoro l'ha fatto, al di là dei risultati, che è stato quello sui giovani, e appunto sembrava essere parte di una nuova progettualità, che però poi si è interrotta subito, perché lui è stato promosso, dopo il primo anno, proprio in Under-23. Pecchia, quindi, se ne è andato, se ne è andato anche Sarri, è arrivato Pirlo, e parlando invece di Andrea Bonatti, che è arrivato alla Juventus anche lui, a luglio 2019, allenando l'Under-16 per una stagione, quindi, se vogliamo, c'era proprio una novità, proprio tutta una catena di nuovo progetto. Bonatti poi, ad agosto 2020, mentre Zauli passava in Under-23, lui saliva in Under-19. Con questo risultato, 80 panchine, 43 vittorie, 16 pareggi e 21 sconfitte. L'Under-19, con Zauli, aveva fatto quarto posto, nella stagione 19-20. Terzo posto ha fatto, nella stagione 20-21, con Bonatti, diceva appunto 19-20, lo dicevo prima, il campionato poi è stato interrotto. Quinto posto, quest'anno, 21-22, con però un miglioramento decisamente rispetto agli anni precedenti, perché, con Bonatti, in questa stagione, l'Under-19 è arrivata in semifinale play-off, per vincere il campionato primavera, e, clamorosamente, il risultato storico, in semifinale di UEFA Youth League. Quindi, ad un passo, veramente ad un rigore, perché si è persa la semifinale, ai rigori contro il Benfica, che poi avrebbe vinto la Youth League, ad un passo da una finale, che magari si sarebbe anche potuta vincere. Quindi, un percorso di crescita decisamente migliore, quello di Bonatti, con l'Under-19, rispetto a quello di Zauli, con l'Under-23, e Bonatti è stato salutato, con queste parole chiave. Anche lui, crescita, la crescita dei giocatori, lascia una squadra solida, un gruppo coeso, protagonista in Italia e in Europa, anche se non si è vinto, manco il campionato primavera, con un'eredità importante, dal punto di vista anche dell'organico. E facciamo allora i nomi dei giocatori, che sono emersi, grazie anche a Bonatti e Zauli, in queste tre stagioni. E adesso li salutiamo entrambi. E sono, per esempio, Dragusin, Hans Nicolussi Caviglia, Fagioli, Ranocchia, Vrioni, che ha segnato tanto, e adesso potrebbe anche essere merce di scambio, quindi un giocatore che può portare soldi alla Juventus, Israel come portiere, che è stato già venduto, Barrenecea, Miretti, Sekulov, Iling, Dagraka, Cerri, De Winter, Zuelli, che è arrivato da poco, Sule, Chibozzo, che potrebbe essere venduto pure lui, Hasa, da seguire, che è molto interessante, oltre ad alcuni giocatori, che sono stati già monetizzati, già venduti, nel senso che qualcosa di buono avevano fatto vedere, ma la Juve ha deciso di non puntare su di loro, però almeno ci ha incassato qualcosa, cioè, Tonghia, Moreno, Frabotta, Portanova e Marquez, Frabotta in realtà è ancora della Juve, ma sarà probabilmente venduto o mandato in prestito, però, per dire, comunque è stata valorizzata questa rosa di giovani, tra cessioni e crescita, sviluppo, che poi ha portato anche ad un aumento del rendimento, addirittura con giocatori che possono essere presi in considerazione, allo start della stagione 22-23, come aggregati alla prima squadra. Ora, il mio discorso qual è? Adesso parliamo anche di quello che sarà appunto il nuovo allenatore dell'Under 23. Il mio discorso qual è? È che non si capisce dove si sta andando, qual è la direzione. Cioè, dopo una stagione disastrosa come questa, a livello di prima squadra, interrompere bruscamente questa progettualità, che era partita da tre anni, non è una cosa indolore. Può essere anche una scelta giusta, magari andiamo ad alzare il livello, però anche da questo punto di vista, ecco, Zauli ha offerte, anzi, ha accettato già l'offerta in Serie B, Bonatti ha offerte dalla Serie C e dalla Serie B, quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire evidentemente che gli allenatori che abbiamo avuto erano bravi, perché sono andati ad un livello superiore, andranno ad un livello superiore, rispetto a quello che hanno potuto fare alla Juventus, evidentemente anche i giocatori, che loro hanno cresciuto, sono bravi perché alcuni li abbiamo venduti, altri li venderemo, altri giocheranno in prima squadra, non sono stati raggiunti tutti quanti gli obiettivi, però si decide di cambiare. Cioè, qual è il senso? Qui torniamo un po' al discorso di come mai sono stati esonerati Sarri, Pirlo, e da un altro punto di vista, diciamo che non sono stati esonerati Zauli e Bonatti, ma in qualche modo hanno deciso di andarsene loro, perché è un po' più questo il discorso, non è che siano stati esonerati, ma perché hanno deciso di andarsene? Perché le lusinghe di altri progetti migliori fanno lasciare la Juventus? Che cos'è che non funziona? Perché non sono stati raggiunti gli obiettivi, cioè se Zauli fosse riuscito a portare l'Under 23 in Serie B, sarebbe rimasto con l'Under 23 in Serie B, invece di andare in Serie B con il Suttirol? Se Bonatti, ecco, perché a Bonatti non è stata offerta la panchina della Serie B? Oppure Zauli se ne sarebbe andato e Bonatti sarebbe diventato allenatore dell'Under 23 in Serie B? Non lo so, dipende tutto da quello? Beh, se dipende da quello, allora siamo comunque nell'ambito di un quasi fallimento che porta purtroppo ad un'inversione di tendenza o comunque ad un'interruzione, ad un'interruzione della progettualità. Quindi un minimo di preoccupazione per quello che saranno le sorti di Under 23 e Under 19 credo che sia legittima, anche a livello di crescita dei ragazzi. E quelli che vi ho menzionato sono alcuni dei giocatori più interessanti che sono ancora o sono stati in Under 19 e Under 23. Ora, il nuovo allenatore dell'Under 23 probabilmente sarà Massimo Brambilla, che non c'entra niente con Brambilla Fumagalli, ecco, prenda una cadrega. No, Massimo Brambilla, ex calciatore centrocampista, curiosità, ha giocato tre partite contro Massimiliano Allegri tra anni 90 e inizio 2000, una vittoria e due sconfitte, ma giocandolo un contro l'altro nessuno dei due ha segnato mentre giocavano contro, e zero partite insieme. cioè sono più o meno coetanei, o comunque hanno giocato nello stesso periodo perché Brambilla è nato il 4 marzo 73, ma a parte questo, è stato fino a questo momento allenatore, prima, da luglio 2015, quindi dalla stagione 2015-2016, allenatore dell'Under 17 dell'Atalanta, per due stagioni, poi dal luglio 2017, quindi per 5 stagioni, 17-18, 4 stagioni, allenatore dell'Atalanta Under 19. Quindi boom ragazzi, cioè attenzione perché tutto quello che ho detto, ok, però Massimo Brambilla dovrebbe essere un upgrade, potrebbe essere un upgrade, potrebbe essere un acquisto importante per i giovani del futuro della Juventus, perché chi è Massimo Brambilla? Avendo allenato Under 17 e Under 19 dell'Atalanta, tra l'altro, tra l'altro, portando l'Under 17 a vincere il campionato e la Supercoppa italiana e l'Under 19 a vincere due campionati e due Supercoppe italiane, l'Atalanta, con 17-18 con l'Under 19 primo posto e campionato vinto da neopromossa, 18-19 primo posto, 19-20 primo posto anche se poi è stato sospeso, quindi avrebbero forse vinto anche un terzo, 3 su 3, 20-21 quinto posto con sconfitta in finale playoff, quindi avrebbero fatto quasi 4 su 4 e vabbè, comunque sì, primo posto, 19-20 poi avrebbero sempre dovuto fare playoff, è chiaro, però comunque erano la più forte in quella stagione e quest'anno, 21-22 quarto posto usciti al primo turno playoff proprio contro la Juventus di Bonatti. però un grande percorso, grandi risultati da parte di Massimo Brambilla che è stato allenatore tra gli altri attenzione di Carnesecchi Bastoni l'ha portato lui dall'Under 17 all'Under 19 dell'Atalanta Musa Barrow Kuluseschi l'ha portato lui l'ha avuto lui in Under 19 all'Atalanta Bellanova che adesso è un altro giocatore interessante per il mercato e Scalvini che è l'unico che è rimasto attualmente ancora all'Atalanta e vengono tutti da lui quindi stiamo andando a prendere l'allenatore di Kuluseschi l'allenatore di Bastoni e di tutti questi altri ragazzi uno bravo allora uno bravo a far crescere i talenti e a valorizzarli bene ottimo speriamo che visto che sa anche raggiungere i risultati riuscirà a portare l'Under 23 in Serie B perché quella è la svolta l'Under 23 in Serie B ripeto significa che non devi più per forza mandare i tuoi giovani in prestito per fargli fare la Serie B perché la possono fare con l'Under 23 parti da un livello minimo più alto perché non sei in Serie C e quindi la Juve è da B a salire anche come organico delle giovanili e il tutto può avere anche un influsso positivo sull'Under 19 perché se alzi il livello lo alzi anche dal basso perché tutti devono adeguarsi ad un livello più alto di prestazioni di obiettivi e di ambizioni speriamo speriamo che sarà confermato presto Massimo Brambilla nuovo allenatore dell'Under 23 in attesa del nome del nuovo allenatore che nel momento in cui sto registrando ancora non è venuto fuori dell'Under 19 e sperando che possa essere tutta una nuova progettualità come è stato nel 2019 che però poi si sono raccolti dei risultati in parte e però si è deciso di interrompere il tutto anche se la vera nuova progettualità omogenea lineare non può che partire dall'esonero dell'allenatore della prima squadra grazie per la vostra attenzione buon dibattito nei commenti su Massimo Brambilla Zauli Bonatti Leggio Vanili e tutto quello che vi ho detto like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi contenuti e abbonatevi a questo canale per sfruttare tutti i vantaggi a partire dalla programmazione quotidiana con orari e argomenti dei nuovi video in uscita e dall'accesso alle chat riservate sul mio server discord ci vediamo molto presto e sempre forza Juve